musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video e sono xyuder e oggi ragazzi mamma mia abbiamo davvero un sacco di argomenti super interessanti da ascoltare nel video di oggi infatti ragazzi parleremo e vi aggiornerò sulla probabile location della chiave numero 2 quella che ci permetterà di sbloccare la terza fase del prigioniero diciamo l'argomento più caldo in questi giorni di fortnite non mancherò anche di cominciare a parlarvi un pochettino della stagione numero 8 è giusto ragazzi che sappiate un po di cose interessanti che forse non vi sono state ancora dette e parleremo ragazzi ovviamente delle news sul terremoto il prossimo evento oramai ufficiale per quello che riguarda il mondo dei leaks che ragazzi stravolgerà la mappa dalla season 7 alla season 8 quindi vi ricordo un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica nessun aggiornamento su tutti i miei video ma prima ragazzi ormai lo sapete da mesi e vi faccio la domanda una domanda ragazzi i vostri commenti le vostre risposte qui sotto ci tengo e ci tengo che rispondiate qua sotto e la domanda è molto semplice qual è la tua skin preferita di questa season la mia ragazzi l'avete vista è il trog mi piace davvero tantissimo penso sia la skin più ignorante nello stesso tempo anche la più bella di questa season me la porterò nel cuore perché è veramente veramente op qual è invece la vostra skin preferita scrivetemelo qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare ragazzi della season 8 proprio sbam a sberle dentro così la stagione 8 ragazzi vedrà veramente un grandissimo cambiamento sia per quello che riguarda il nostro gameplay ma non tanto il gameplay il nostro modo di concepire il pass battaglia che sarà totalmente nuovo sia per quello che succederà ovviamente dalla season 7 alla season numero 8 come vi anticipavo ragazzi i leakers ne sanno davvero una più del diavolo queste che state vedendo sono delle stringhe di codice che confermano il terremoto anzi i terremoti earthquake smoke drop quindi ragazzi si parla di ben 50 scosse di terremoto che partiranno dalle quelle più leggeri fino ad arrivare a scosse talmente violente che come leggiamo nelle stringhe che vi ho appena mostrato addirittura ci sarà un camera shake quindi si muoverà tutto lo schermo ci sarà addirittura un earthquake floor drop quindi la spaccatura sembrerebbe del pavimento del floor del terreno e si legge anche tree leaves falling quindi cadranno anche gli alberi volete sentire un suono lo camuffiamo lo camuffiamo coi colpi di tosse vi faccio sentire vi faccio sentire dei suoni presi direttamente dal coso questo ve lo faccio vedere dopo sentito qua faccio qualche colpo di tosse così non ci scavano male il terremoto e questo è il terremoto non si può sentire questo quello medio c'è ancora uno questi ragazzi sono ignorante sono ignorante ma lo faccio per voi raga lo faccio per voi per farvi sentire le cose questi sono dei suoni sui terremoti ascoltateveli bene con le cuffiette perché meritano davvero tanto voglio ancora spendere due parole sulla season 8 ragazzi come vedete qua c'è un'altra stringa di codici 3 string interessantissime come vedete la prima dice inizio della stagione il 4 dicembre 2018 ed è stato ovviamente così la fine della stagione ragazzi è il 7 marzo 2019 mentre l'ultima riga dice il timer che mostra la fine della stagione a noi è il 28 febbraio ma in realtà sembrerebbe che finisca il 7 marzo si parla ragazzi di una settimana numero 11 una settimana nuova perché ci sarà con l'arrivo della pace 7.4 quella che dovrebbe entrare in vigore dopo domani 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 in realtà domani è una funzione un mini che dei mini game dentro il gioco che ci daranno dei coins questi coins saranno utilizzati nella settimana numero 11 è un po strana ragazzi come cosa ma i leakers parlano chiaro sto cercando di darvi tutte le informazioni possibili aggiornate ora per ora per il momento ci sarà qualcosa che davvero sarà incredibile e se così fosse questo spiega il perché la stagione finisce il 7 marzo e non il 28 febbraio anche se in realtà ci sono 20 giorni dove saremo lì a fare nulla perché questo giovedì arrivano le sfide dell'ultima settimana e la season finisce invece a fine mese quindi passano davvero parecchi giorni insomma ragazzi state aggiornati perché appena so qualcosa voi sarete i primi a saperlo anche sulla mia pagina instagram xyuder andate a vederla pubblico anche lì ogni tanto i leaks parliamo un secondo ragazzi della skin honor guard ragazzi c'è stato un problema io l'ho vissuto in tempo reale l'altro ieri notte mentre stavo registrando c'è stato ragazzi un leakers che ha trovato un metodo per dare a profusione codici per sbloccare la skin honor guard anche io ho provato a prendere un codice erano già tutti utilizzati era veramente impossibile una roba con tipo 2000 retweet su un suo post nel giro di due minuti una roba assurda fortnite pubblica nella pagina twitter un post ufficiale dove dice siccome c'è stato un problema ovviamente non stanno a spiegare che cosa è successo abbiamo un momentaneamente disabilitato la promozione della skin honor quindi ragazzi se dovete prendere un telefono magari aspettate un secondo se volete prendere un honor 20 almeno se lo prendete per la skin aspettiamo un attimo che rimettano la possibilità quindi quella che vi ho appena detto è la spiegazione del perché è stata disabilitata la skin honor guard ma andiamo avanti ragazzi e parliamo della location della chiave numero 2 quella che ci permette di sbloccare lo stage numero 3 del nostro prigioniero come state vedendo alle mie spalle questa è la schermata di caricamento numero 10 quindi quella che ci verrà data al completamento delle sfide di questo giovedì e ragazzi la posizione e l'immagine sono davvero importantissime si sta cominciando a dire in giro che sappiamo ragazzi che saremo già nella patch 7.4 perché c'è un falò acceso e questo falò acceso sarà uno di quelli che potremo utilizzare in game ve lo dico sempre perché ci tengo che lo capiate potremo utilizzare in game i falò che sono stati posizionati in giro per la mappa con la nostra legna e appunto usarli come dei falò veri questa montagna ragazzi che non è altro che questa posizione praticamente davanti al palmetto paradisiaco guardando la nostra mappa prima dei camper non so se vi faccio rivedere l'immagine vedete vedete qua sopra di me quello là è il granaio dove ci sono tutti i camper diciamo che di là c'è il corso commercio ok avete capito dovrebbe essere ragazzi qua ci siamo completamente persi ecco dovrebbe essere questa ragazzi la posizione esatta della mappa quindi marcatevela bene in testa ovviamente sembrerebbe appena avrò delle informazioni ufficiali saprete voi anche la stessa cosa pubblicherò ovviamente il video al completamento della settimana numero 10 ci sarà uno standard da recuperare questo ragazzi è lo standard che otterremo quindi in onore del prigioniero uno standard con il prigioniero alla prima fase ragazzi davvero molto molto carino che dire ragazzi ci sono un sacco di news che in questi giorni sicuramente arriveranno di prepotenza e ragazzi io vi dico di iscrivervi al canale perché da martedì quando rilasceranno la patch 7.4 arriverà una valanga di roba liccata io ve lo dico non perdete l'occasione di essere i primi a saperla io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video vi mando un abbraccio grande un in bocca al lupo per la vostra settimana che inizia oggi noi ci vediamo in live ciao